Accadde in un giorno come tanti. Un servo stava sotto il Rashomon. Non c'era anima viva, a parte lui. Solo una cavalletta se ne stava appollaiata sopra una grande colonna rossa, in parte ormai scolorita. Trovandosi lungo Sezaku Oji, sarebbe stato normale vedere presso il Rashomon almeno due o tre persone di qualsiasi estrazione sociale in attesa della fine della pioggia. Ma stavolta non c'era nessun altro. Perché a Kyoto, negli ultimi due o tre anni, c'era stata una catastrofe dopo l'altra. Terremoti, trombe d'aria, incendi e carestie. La capitale stava morendo in tanti modi diversi. Stando a quanto riportano gli annali, statue e arredi buddhisti venivano distrutti, privati delle lamine laccate d'oro e d'argento che li decoravano e accatastati lungo i bordi delle strade, per poi essere venduti come legna da ardere. Con la città ridotta in quello stato, era naturale che non ci fosse più nessuno a preoccuparsi della manutenzione del Rashomon. Approfittando di quello sfacelo, volpi e tassi ne avevano fatto la propria casa, così come avevano fatto i ladri, e infine era diventata pratica comune persino portarsi le salme che nessuno reclamava. Quando calava la sera, chiunque si trovasse nelle vicinanze del portale vi passava davanti senza fermarsi, tanto era spiacevole la sensazione che si avvertiva. In compenso, vi si radunavano moltitudini di corvi, arrivati da chissà dove. Durante la giornata svolazzavano rumorosi i grandi cerchi sopra il tetto decorato, spiccando nel cielo rosso del tramonto nitidi come semi di sesamo. Naturalmente i corvi arrivavano per beccare la carne dei cadaveri. Ma quel giorno, forse per l'ora tarda, non se ne vedeva nemmeno uno. Si potevano scorgere solamente le macchie bianche dei loro escrementi, sparse qua e là, in mezzo alle erbacce alte cresciute tra i resti dei gradoni di pietra. Il servo se ne stava seduto sul settimo e ultimo gradone, in alto. Avvolto nel suo kimono blu scuro, ormai scolorito dai lavaggi, guardava distrattamente cadere la pioggia mentre si stuzzicava il grosso foruncolo che gli era cresciuto sulla guancia destra. In precedenza l'autore ha scritto Un servo stava ad aspettare la fine della pioggia. Come è stato detto, il servo stava ad aspettare la fine della pioggia. Ma anche una volta è finito di piovere. L'uomo non avrebbe avuto una meta particolare. In circostanze ordinarie sarebbe certamente tornato alla dimora del proprio padrone. Peccato che fosse stato licenziato qualche giorno prima. Come detto poc'anzi, in quel periodo la città di Chioto era in piena decadenza e anche il licenziamento dopo un lungo servizio non era che uno degli effetti collaterali di quel declino. Il servo dunque, benché fosse costretto a ripararsi dalla pioggia, in realtà, non avendo un posto dove andare, se ne stava lì senza sapere cosa fare. Il tempo aveva poco a che fare con il suo umore depresso. Per cui, invece che stava ad aspettare la fine della pioggia, sarebbe più giusto dire, non avendo un posto dove andare, il servo se ne stava lì, bloccato dalla pioggia senza sapere cosa fare. Dunque, come se non bastasse, anche il tempo contribuivano un poco a influenzare il sentimentalismo di quel servo all'epoca Heian. Aveva iniziato a piovere intorno alle quattro e non sembrava ancora sul punto di smettere. L'uomo continuava ad ascoltare distrattamente il suono della pioggia che cadeva su Suzaku Oji mentre valutava i suoi pensieri sconclusionati. Cosa avrebbe fatto nell'immediato futuro? Come se la sarebbe cavata? L'acqua avvolgeva il raciomondo all'alto e si infrangeva a terra con un suono sordo. A poco a poco stava calando la sera. L'uomo alzò lo sguardo e vide le estremità delle tegole, che sporgevano oblique dal tetto del portale, sorreggere nuvole pesanti e scure. Doveva uscire da quella situazione disperata. Non poteva permettersi di stare a sottilizzare. Altrimenti sarebbe stato trovato morto di fame ai bordi della strada o all'ombra di un cumulo di terra, per poi essere gettato come un cane proprio nel piano superiore di quel portale. I pensieri si rincorsero nella sua testa ancora per un po'. Poi, finalmente, trovarono un punto d'incontro. Se non mi rimane altra scelta. Ma quel sì sembrava destinato a rimanere tale, perché, anche se affermava di non avere altra scelta, all'uomo mancava il coraggio di mettere in pratica l'ovvia conclusione di quell'ipotesi. Diventare un ladro. Il servo starnuti forte, poi si alzò stancamente. Desiderava un bracere in quella fredda notte di chioto. Un vento prepotente si insinuava tra le colonne del portale insieme all'oscurità. Anche la cavalletta, che fino a poco prima riposava su una colonna, se n'era andata chissà dove. L'uomo si strinse nelle spalle, sollevò sopra la testa il kimono blu che copriva la sua veste giallo-oro ed ed un'occhiata nelle vicinanze del portale. Se solo ci fosse un posto dove passare la notte tranquillo al riparo della pioggia e da sguardi indiscreti. Gli balzò agli occhi una grossa scala, anch'essa laccata, che conduceva in cima alla torre del Rashomon. Qualora là sopra ci fosse stata una persona, l'avrebbe trovata già morta. Si infilò i sangali di paglia e appoggiò un piede sul primo gradino della scala, badando che la sua spada scadente non scivolasse fuori dal fodero. Dopo pochi istanti l'uomo era già a metà strada. Senza fiatare, rannicchiato come un gatto, sbirciava sopra la sua testa. La luce dei fuochi in cima alla torre si rifletteva a fianca sulla sua guancia, dove in mezzo alla barba ispida era cresciuto quel foruncolo rosso e purulento. Il salvo dava per scontato che lassù ci fossero solo cadaveri, ma salendo ancora due o tre gradini, non solo gli sembrò che qualcuno avesse acceso un fuoco, ma che questo si stesse muovendo qua e là. Lo poteva dedurre dalla luce gialla e livida che si rifletteva tremolante sulle ragnatele agli angoli del soffitto. Chiunque si trovasse là sopra, di sicuro non era una persona comune, perché era stato capace di accendere un fuoco in cima al Rashomon in una notte di pioggia come quella. Il servo salì lesto sull'ultimo gradino della scala, silenzioso e rapido come una lucertola. Poi, sporgendosi più che potè, allungò il collo per dare una timida occhiata all'interno della torre. Proprio come ci diceva in giro, c'era un gran numero di cadaveri ammucchiati, ma data la poca luce, più scarsa di quanto si aspettasse, non poteva capire quanti fossero. In quell'ammasso indistinto, dove salme di uomini e donne, come ovvio, erano mescolate tra loro, poteva distinguere alcuni corpi nudi e altri vestiti. Quei cadaveri, che giacevano confusamente a terra, con la bocca chiusa e le braccia distese, sembravano bambole d'argilla, al punto che si poteva persino dubitare che un tempo fossero stati persone vive. La fioca luce del fuoco illuminava il petto e le spalle di quei corpi, muti per l'eternità, rendendo l'ombra della loro parte inferiore ancora più nera. Mi servo aveva portato istintivamente una mano al naso per il tanfo dei morti in putrefazione, ma un attimo dopo se n'era già scordato. Un'emozione violenta lo aveva privato quasi del tutto del suo senso dell'olfatto. I suoi occhi avevano scorto una persona accovacciata tra quei corpi. Era una vecchia, avvolta in un chimono rosso scuro, emaciata, bassa di statura, con i capelli bianchi. Sembrava una scimmietta. Teneva nella mano destra un tizzone acceso e sembrava guardarsi dritto negli occhi il volto di una di quei cadaveri. Forse una donna a giudicare dalla lunga capigliatura. L'uomo, scosso più dalla paura che dall'oscurità, per un attimo si dimenticò persino di respirare. O, per dirla con un'espressione di quell'epoca, si sentì rizzare i capelli in testa. Dopo aver piantato il pezzo di legno tra le assi del pavimento, la vecchia afferrò con entrambe le mani la testa del cadavere che aveva fissato sino a quel momento e, proprio come una cimmia che toglie i pidocchi al proprio cucciolo, iniziò a strapparle i capelli uno ad uno, apparentemente senza sforzo alcuno. A ogni capello strappato, la paura nel cuore del servo si spegneva per fare spazio a un odio sempre più intenso nei confronti della vecchia. No, è inesatto dire che fosse rivolto alla donna. Era piuttosto un'avversione nei confronti di ogni tipo di male, quella che provava con intensità crescente minuto dopo minuto. Se mai qualcuno gli avesse ricordato la questione su cui rifletteva quando si trovava ai piedi del portale diventare un ladro o morire di fame, in quel momento avrebbe certamente scelto di morire di fame, senza alcun rimpianto. Il suo cuore sembrava il tizzone ardente della vecchia, tanto bruciava di disprezzo verso il male. Naturalmente il servo non si spiegava per quale motivo la donna strappasse i capelli a quel cadavere, né come è logico riusciva a capire se fosse una cosa giusta o sbagliata. Ma per lui, trovarsi in cima al Rashomon a staccare i capelli ai morti in una notte di pioggia come quella costituiva già di per sé un atto immorale e imperdonabile. Quanto al fatto che sino a pochi istanti prima stesse seriamente considerando di diventare un ladro, di sicuro se l'era già dimenticato. Fece allora forza sulle gambe e balzò di scatto in cima alla scala. Poi mise mano alla spada e si avvicinò alla vecchia a grandi passi. La sorpresa della donna fu indescrivibile. Appena rovide salto via come una frezza scoccata dall'arco. «Tu dove vai?» le urlò il servo sbarrandole la strada. La vecchia, presa dal panico, aveva cercato di fuggire, ma era inciampata in uno di quei corpi. Magrado ciò, aveva provato a respringere l'uomo, ma questo non aveva alcuna intenzione di lasciarla fuggire e la cacciò indietro. Per qualche attimo i due si azzuffarono in mezzo ai cadaveri, ma si capiva fin da subito chi avrebbe prevalso. Alla fine il servo afferrò la donna per i pulsi e la immobilizzò a terra. Sembravano delle zampe di gallina. Erano pelle e ossa. «Che stavi facendo? Che stavi facendo?» «Dimmelo!» «Dimmelo, altrimenti...» L'uomo scostò la vecchia da una parte, sguoinò la spada e le puntò l'acciaio luccicante davanti agli occhi. Ma la donna non fiatò. Le mani tremanti, il respiro spezzato, gli occhi spalancati che sembravano potessero uscirle dalle orbite, continuava a tacere ostinatamente come fosse muta. Mentre la guardava, per il servo divenne chiaro che la vita di quella vecchia dipendeva esclusivamente da lui. Quella consapevolezza raffreddò l'odio che aveva bruciato così intenso nel suo cuore sino a quel momento, lasciandogli solo la serenità e la soddisfazione di chi ha portato a termine un lavoro nel migliore dei modi. Chi no lo sguardo per guardare la vecchia e le parlò con una voce più distesa. «Non sono una guardia. Passavo da queste parti proprio ora. De certo non sono qui per arrestarti, ma faresti meglio a dirmi cosa ci fai? quassù». A quelle parole gli occhi della donna si spalancarono ancora di più e presero a fissarlo iniettati di sangue con l'espressione minacciosa di un rapace. Le labbra, ormai tutt'una col naso a causa delle rughe, si mossero. Nel suo collo sottile spuntava ben visibile il pomo d'adamo. Era come se masticasse qualcosa. Quindi alle orecchie del servo giunse una voce simile al verso di un corvo. «I capelli!» «Prendevo i capelli a quella donna per...» «Ecco, volevo farci una parrucca». L'uomo rimase deluso da una risposta così banale. Nel suo cuore tornò l'odio di prima, stavolta misto a scherno. La vecchia, che in mano teneva ancora i lunghi capelli strappati al cadavere, si accorse di quello stato d'animo e balbettò con una voce gracidante. «È vero, togliere i capelli a un morto non è una bella cosa, eppure tutti questi cadaveri se lo meritano». «Vedi, proprio questa donna a cui strappavo i capelli era solita tagliare serpenti in pezzetti di circa quattro sun. Li lasciava essicare e poi andava a venderli alle guardie di sua maestà il principe, facendogli credere che fosse stocafisso. se non fosse morta per l'epidemia magari andrebbe a venderli ancora adesso». Alle guardie piacevano così tanto che non mancavano mai di comprarglieli per condire i loro pasti. Lei non pensava di fare qualcosa di male perché era costretta a farlo. Se non l'avesse fatto sarebbe morta di fame. E nemmeno io penso di star facendo qualcosa di sbagliato. Come lei nemmeno io posso fare diversamente perché anch'io morirei di fame. di sicuro mi perdonerebbe perché anche lei sapeva molto bene come va il mondo quando non rimane altra scelta. Grosso modo era questo che la vecchia intendeva. Il servo ascoltava impassibile con la mano sinistra appoggiata sull'elsa della spada ormai riposta nel suo fodero. Con la destra naturalmente seguitava a stuzzicarsi l'enorme foruncolo rosso e purulento che aveva sulla guanza. Ma mentre prestava ascolto a quelle parole nel cuore sentiva nascere un nuovo coraggio quello che gli mancava quando era di sotto ma era un coraggio del tutto diverso da quello che lo aveva spinto a salire in cima al portale e ad afferrare la vecchia. In quel momento non era più indeciso se diventare un ladro o lasciarsi morire di fame. Morire di fame era fuori discussione tanto che quasi non ci pensava nemmeno più. dunque è così che stanno le cose a secondo la vecchia con tono beffardo quando lei ebbe finito di parlare. Tutto un tratto l'uomo fece un passo avanti staccò la mano dal brufolo e afferrò la donna per i capelli della nuca. Allora non te la prenderai se ti rapino vero? Sai se no morirò di fame anch'io. Così dicendo le sfilò rapidamente di rosso il kimono e quando la donna gli si avvinghiò alle gambe la scalciò rudemente sopra i cadaveri. La scala distava cinque passi contati. In un battardocchio il servo si precipitò giù dalla scala che conduceva nel cuore della notte col kimono rosso sotto brazzo. La vecchia rimase a terra per qualche istante. Pareva morta. Si rialzò poco dopo completamente nuda in mezzo ai cadaveri. Servendosi del tizzone di legno ancora acceso strisciò sino all'imbocco della scala riascicò qualcosa con una voce lamentosa e guardò di sotto. I corti capelli bianchi le cadevano scompigliati sulla fronte ma là fuori c'era solo la notte più nera. Non curante della pioggia il servo era già corso in città per dedicarsi al suo nuovo mestiere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.